Eccoci, buongiorno da parte mia e buongiorno da parte di tutta la redazione di Sky TG24. Allora, i numeri che vi abbiamo raccontato anche attraverso i nostri titoli dei contagi nel nostro paese sono numeri importanti, perché non avevamo mai avuto questi numeri. Oltre 15.000 casi di contagio nelle ultime 24 ore, così tanti mai neppure nella prima ondata. Mai neppure per la verità un numero così alto di tamponi, oltre 177.000, ma la notizia confermata è che c'è un peggioramento. Allora, ringrazio e saluto, ringrazio molto per la verità il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, col quale mi collego da Roma. Salve prefetto, innanzitutto grazie molte per aver accettato il nostro invito, prefetto Piantedosi. Allora, voi state lavorando in questi giorni tantissimo, come tra l'altro tutte le prefetture italiane, perché? Comitati per l'ordine e la sicurezza, un po' per recepire il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e per adattare quella misura prevista alle varie e diverse realtà locali. Questa mattina c'è un appuntamento importante, Comitato per l'ordine e la sicurezza, in prefettura, da voi a Roma. Chiaramente sarete tutti quanti, come sempre, a distanza, me lo conferma, giusto? Sì, sì, la riunione si terrà in videoconferenza. Prefetto, e farete la lista delle piazze di Roma che dovrete chiudere. Voi dite perimetrare perché non vi piace la parola chiusura e non è un bel messaggio quello che passa col termine chiusura, ma in effetti cinturerete alcune delle maggiori piazze della capitale per evitare sostanzialmente di fare cosa? Che il contagio si possa diffondere laddove ci sono spazi di movida che sono molto frequentati e dove ci sono particolarmente giovani fino a tardanotte. Voi però agirete prima perché si tratta delle 21, giusto? È così? Esatto, come da prescrizioni di legge del DPCM, c'è la possibilità di adottare queste misure dalle 21 e fino alle 24, perché nel frattempo, e anche dopo, perché nel frattempo è sopravvenuta anche l'ordinanza regionale che predispone la chiusura totale, insomma, dalle 24. Noi diciamo perimetrazione, utilizziamo questo termine perché chiaramente le misure, anche fisiche, di contenimento saranno adeguate anche alla logistica specifica dei singoli luoghi. In buona sostanza verranno adottate delle misure di perimetrazione dei luoghi tradizionalmente oggetto di assembramenti, penso ai nuclei centrali di alcune piazze come Campo dei Fiori qui a Roma. Mi fa la lista, prefetto, se ce l'ha o comunque quali sono le piazze? Sì, sicuramente, noi avvieremo oggi, probabilmente proporremo in comitato, c'è già una preintesa con la sindaca Raggi e anche con la regione, un intervento prima di tutto su Piazza Campo dei Fiori, sul Pigneto, via del Pigneto, Piazza Madonna dei Monti e qualcosa anche a Trastevere su Piazza Trilussa. Questo proprio come operazione anche fisica di perimetrazione, appunto, come dicevamo, degli spazi, con l'obiettivo di convogliare e di consentire l'accesso agli esercizi di ristorazione, agli esercizi che sono, insomma, su strada, ma nello stesso tempo evitare che ci possano essere assembramenti sulle altre porzioni degli spazi. Prefetto, ma come le controllerete poi queste piazze? Come le controllerete? Il vostro piano, il suo piano, che cosa prevede? No, sicuramente c'è ovviamente a supporto, non è solo una questione logistica di, come dire, transennamento. Ci sarà un adeguato dispositivo di presidio da parte della Polizia Locale e delle forze di Polizia Statale. Noi qui a Roma abbiamo sperimentato ormai da tempo una perfetta sinergia tra le forze di Polizia Statale e le Polizia Locale, quindi con una integrata suddivisione dei compiti, quindi si cercherà di fare in modo anche di sollecitare... Userebbe anche l'esercito, Prefetto Piantedosi? Sarà impegnato anche l'esercito? Ma per il momento non ce n'è necessità. Noi abbiamo un contingente dell'esercito che è essenzialmente qui dispiegato sui controlli ad obiettivi termini di vigilanza fissa. Quindi per il momento noi avremo le forze di Polizia che le dicevo e la Polizia Locale in una logica anche di sollecitazione della collaborazione dei cittadini. Prefetto, volevo chiederle, lei se lo ricorderà anche un po' tutta la polemica della prima ondata con questo giro di autocertificazioni? Ricominciamo con le autocertificazioni, perché l'ordinanza anche del Lazio, del governatore Zingaretti, impone che certo per necessità ci si può muovere, ma bisogna esibire l'autocertificazione. Ricorda un po' anche tutta la confusione che c'era stata all'inizio? Come no. Come no, come no. Però voglio precisare, premesso che mi risulta che sarà una metodica che verrà un po' estesa su tutto il territorio nazionale laddove ci sono queste ordinanze regionali, quindi anche nelle altre due regioni dove per il momento sono state emanate. Voglio cogliere questa opportunità e quindi la ringrazio della domanda. L'autocertificazione è uno strumento offerto di semplificazione al cittadino. L'alternativa sarebbe che per ogni contatto tra l'operatore di polizia e il cittadino ci dovrebbe essere un lungo processo di verbalizzazione, quindi con perdita di tempo per gli operatori e per il cittadino che viene in qualche modo intercettato e che poi dovrebbe dare le spiegazioni della sua presenza in un luogo dove l'ordinanza vieta di poter essere. Quindi l'autocertificazione non è un impiccio o un orpello o un aggravio burocratico, ma è uno strumento di semplificazione che viene offerto al cittadino stesso. Con poche righe, con pochi minuti, si disbriga una pratica, un qualcosa che altrimenti richiederebbe una procedura più complessa. Senta prefetto, vorrei chiederle anche un'altra cosa. Lei tra l'altro questa pandemia la sta gestendo ora come prefetto di Roma, ma nella prima ondata lei era capo di gabinetto della ministra Lamorgese, quindi era albiminale. Posso chiederle una cosa, una valutazione più generale, non soltanto come prefetto di Roma, le dicevo, si sta provando in tutti i modi a scongiurare un lockdown generalizzato. Noi lo capiamo benissimo dalle parole del Presidente del Consiglio Conte. Vorrei chiederle, il timore prefetto qual è? Che possa esserci tensione sociale, che non siate poi più in grado di controllare evidentemente sommosse popolari o comunque agitazione a livello di centri urbani. È questo il timore? Il timore prima di tutto è che sono i riflessi economici dell'eventuale blocco generalizzato. Il lockdown, come è stato ridefinito già nei mesi scorsi, è una misura di sicura efficace dal punto di vista del massimo contenimento, ma l'abbiamo già visto ai noi produce degli effetti non semplici su quello che sono i circuiti economici, che già con queste misure sicuramente avranno un qualche contraccolpo. Quindi chi giustamente vuole valutare con cautela la divenire ad un blocco generalizzato lo fa perché abbiamo una situazione che non si preannuncia positiva da questo punto di vista. Lei fa riferimento anche ai riflessi sociali, questi potrebbero poi essere anche la conseguenza ulteriore, non c'è dubbio che è qualcosa che ci preoccupa, ma prima di questa ancora ci preoccupa proprio l'effetto diretto sull'economia. Noi parliamo per esempio di consentire comunque l'accesso agli esercizi commerciali, agli esercizi di ristorazione, di intrattenimento in qualche modo, ovviamente nei limiti delle prescrizioni che il DPCM ha imposto, quanto meno di sei persone al tavolo e quant'altro. Tutto questo lo facciamo perché l'altro giorno abbiamo ricevuto, insieme alla sindaca, abbiamo incontrato i rappresentanti delle categorie di questi esercenti e ci hanno fatto presente, lei sa quanti sono a Roma i dipendenti di queste categorie, sono 80 mila, quindi se queste aziende avessero ripercussioni tali da dover licenziare i propri dipendenti, noi parleremo di una grandissima crisi economica e sociale, già solo nella città di Roma, ma questo dato può essere moltiplicato su tutto il territorio nazionale. Quindi questa è la preoccupazione, quindi ben venga una ponderazione delle misure, almeno per progressione, poi tutti noi speriamo che i dati del contagio possano quanto prima farci tirare un sospiro di sollievo e quindi poi dopo in qualche modo approcciarci con maggiore possibilità. Quindi lei non è d'accordo prefetto con chi per esempio invoca misure più incisive come Orlando? No, guarda, io faccio il funzionario dello Stato e quindi io applico le leggi, quindi non devo essere d'accordo con nessuno. Ragionando con un minimo, con un normalissimo buonsenso anche da cittadino qualsiasi, dico che peraltro nulla è scorpito nel marmo, insomma in uno Stato come quello attuale di avanzamento del dato epidemiologico, è ragionevole provare a cercare di un punto di equilibrio tra quello che è la misura di contenimento e il fatto di lasciare comunque la possibilità, insomma al circuito economico di fare il suo corso. Il rischio di tensione sociale però prefetto Piantedosi c'è, questo insomma è un timore che voi avete ed è anche probabilmente la ragione per la quale si sta procedendo in maniera così ponderata e così graduale? Beh certo, le ho dato dei numeri per esempio solo che riguardano la città di Roma, se lei immaginasse insomma ripercussioni grave su 80 mila famiglie ad esempio, credo che sia come dire, un dato piuttosto quasi aritmetico, quindi una ricaduta anche sociale, quindi al di là di quelle che poi possono essere riflessi in termini di, come dire, movimenti anche di turbativa dell'ordine pubblico, però è qualcosa che dobbiamo assolutamente prevenire e scongiurare nella maniera più assoluta. Prefetto, le do la possibilità e la ringrazio se vorrà farlo di fare un appello, visto che lei si occupa di sicurezza, di ordine pubblico, state lavorando proprio nella provincia di Roma, ma si sta lavorando, me lo faccio a dire, in tutta Italia in questo momento con grande difficoltà, l'appello che poi tra l'altro un po' ha rivolto anche il Presidente del Consiglio alla responsabilità, che cosa serve in questo momento che sta mancando secondo lei? No, non che stia mancando, però l'appello alla responsabilità, rinnovarlo non fa mai male, tutte queste misure che a livello nazionale si stanno adottando, poi con l'articolazione sui livelli territoriali, non hanno senso, non hanno un senso compiuto se non c'è la collaborazione dei cittadini, veda lei, voi molto spesso ci chiedete cosa farete, le perimetrazioni, il controllo delle polizie, se ci sarà l'esercito, ma il vero tema è la collaborazione dei cittadini, la consapevolezza che viviamo un momento difficile, che si può gestire solo ed esclusivamente se c'è un diffuso senso di consapevolezza e di equilibrio e di partecipazione dei cittadini, quindi anche io mi aggiungo agli appelli che ha fatto il Presidente del Consiglio, non solo lui, su quello che è la sollecitazione ai cittadini a collaborare, per noi non è importante fare un quadro di normative che poi devono produrre delle sanzioni, l'importante non è la sanzione, che pure ovviamente ci ripromettiamo di adottare allora quando la violazione delle regole dovesse manifestarsi, l'importante per noi è che quello che viene previsto in qualche modo funziona. Quindi sarete ferrei anche nel rispetto delle regole chiaramente in questo momento? Beh sicuramente, ma non per una ostentazione muscolare del braccio forte della legge, perché il rigore dell'applicazione delle misure deve avere anche un aspetto di sollecitazione di quella che dicevo, che è la collaborazione dei cittadini. Deterrenza, si dice così, giusto anche? Sì, anche, anche, anche. Prefetto, la ringrazio molto. Deterrenza, ma io direi anche promozione, promozione, diciamo sollecitazione e compartecipazione da parte di tutti su quelli che sono gli obiettivi, che sono quelli per l'appunto, prima o poi di arrivare ad un contenimento della diffusione del contagio, ma nello stesso tempo mantenendo aperte un po' tutte quelle che sono le formule di vita normale che siamo abituati a sostenere. E la chiusura delle città, la cinturazione parte da domani, perfetto, da quando? Mi dica l'ultima cosa. Da venerdì sera, sì, dalla sera di venerdì, sì. Quindi da venerdì, insieme con l'ordinanza di Zingaretti parte anche la cinturazione e la perimetrazione delle aree della Movida. Esatto. Perfetto, io la ringrazio molto. Oggi noi ci rivedremo in comitato e quindi poi dopo probabilmente il tutto sarà formalizzato in un provvedimento che traccerà in maniera specifica. Che lei in qualche modo ci ha anticipato e la ringraziamo. Grazie a lei. Grazie, perfetto Piantedosi. Il prefetto di Roma, buona giornata, buon lavoro alle persone che lavorano con lei. Buona giornata a lei. Presidio del territorio innanzitutto, anche in questo momento di grande difficoltà. Allora, altra città a Tanai...